Casa della partecipazione a Roma dove si è svolto il convegno conferenza organizzato dai Lions Club International sul femminicidio ma sulla violenza in genere contro le donne. Noi chiudiamo qui con una rappresentativa dei Lions Club International ma anche una rappresentativa forte mediatica. L'editore ormai lo conoscete volto con l'amte di tutti i programmi di One TV Franco Lattanzi, piacere mio Franco e ormai un altro volto l'opinionista e curatore e coordinatore dei programmi Giuliano Testa. Buongiorno, ciao. Molto piacere di parlare con te e di accettare i televisati. Io dico opinionista perché spazio sotto ogni fronte. E poi da quest'altra parte, senza impallare nessuno, sarà un po' difficile, abbiamo Alberto Vinci, altro volto noto dei Lions Club ma anche della nostra televisione perché dall'hotel Ergife ha rilasciato una simpatica cronistoria legata ad anziani e porchette che si è risolta con l'amicizia nata con il grande Franco Lattanzi. Grazie Alberto. Grazie a te e naturalmente al grande Lattanzi che ci dà sempre questa possibilità di esprimere le nostre idee, le nostre opinioni in tutto il territorio e in tutta Italia. Io ringrazio Franco Lattanzi soprattutto perché con gli ultimi servizi che abbiamo fatto anche sulla sua vita un editore come lui ci dà la voce e questo vuol dire tutto Franco. Grazie da parte di chi magari in strati più alti la voce non gliela danno più. D'altronde siamo in un paese in cui la voce non tutti la possono aprire per cui normalmente finché ci adattiamo a quello che è in basso che però è quello più seguito, questa è la realtà dei fatti. Mentre quello alto sinceramente sappiamo ormai che non c'è più da ascoltare più di tanto, ascoltiamo quello che ci fa comodo, giusto? Beh avrai testimonianze di persone che non definiscono il basso questo ma anzi l'alto, interviste che poi il buon testa coordinatore dei palinsesti metterà a puntino per l'interesse dei nostri telespettatori che ci seguono sulla piattaforma Sky in tutta Europa e in tutta Italia ma anche sul digitale terrestre Roma e Lazio. Testa, oggi è stato un momento molto importante di riflessione. I Lions al primo posto anche per quanto riguarda questa piaga sociale che parte da lontano. Lei che si occupa un po' di tutto, non solo di programmi televisivi ma anche di fatti sociali, ci ha raccontato anche qualche storia che lei conosce ma è intervenuto anche durante il dibattito. Sì è vero, è stato affrontato un bellissimo argomento però sai com'è, ognuno di noi ha delle sue idee personali, le sue opinioni in base a quello che è stato detto, per esempio l'avvocato ha citato degli uomini che menano alle proprie mogli perché li vogliono bene. Io non sono d'accordo perché tu non puoi voler bene se meno la tua moglie. Diciamo che ognuno di noi ha delle idee personali e io sono di un parere. Andiamo avanti con le leggi fatte nel Duopo Guerra. Era un contesto storico diverso, bisogna adeguarsi con i contesti storici, secondo il mio punto di vista, e adeguare le leggi con il contesto storico. E sociale. E sociale, forse riusciremo ad ottenere qualche cosa. Bene, Giuliano grazie per aver dato il suo contributo e adesso passiamo a uno degli organizzatori di questa conferenza che è Alberto Vinci. I Lions al primo posto anche per quanto riguarda questa piaga. Abbiamo sentito la vice governatrice Puppa parlare proprio di un intervento sinergico con le istituzioni, con le scuole, spesso anche fondamentale da parte vostra. Io credo che una delle cose fondamentali sia la prevenzione, come la facciamo anche sulla salute. Senza la prevenzione non si può arrivare a nulla. Essendo un uomo pratico, credo proprio che la possibilità nostra, come stiamo facendo, di inserire per ogni municipio, per quanto riguarda Roma, lo sportello del cittadino, come già abbiamo in tanti municipi, tra cui anche quello di Ossia, dove il nostro supporto con le istituzioni sia proprio quello di anticipare la violenza, nel senso che ascoltiamo, provvediamo e se ci sono dei problemi noi possiamo anche collegarci sia con la polizia e con i carabinieri. Grazie a questo all'idea del questore tagliente che quando lui svolgeva il suo lavoro a Roma ci dette la possibilità di fare proprio sinergia con loro. Perciò che cosa dire? Quello che sono le leggi non mi riguarda. Sono gli avvocati, le istituzioni, il tribunale e via dicendo. Però i Lions possono fare qualche cosa di importante. Ripeto e ribadisco. La prevenzione. La prevenzione con il cittadino, stare vicino al cittadino, aiutare il cittadino. Perché il cittadino si sente solo, specialmente negli ultimi tempi, dove è sbandato, è sbandato come un bambino, non sa quello che cosa deve fare. Ringrazio ancora la televisione che ci dà l'opportunità e naturalmente quando dico televisione dico anche lattanzi, che ci dà la possibilità di comunicare con la speranza che ci possono vedere non soltanto le istituzioni, ma ci possono vedere anche i cittadini. Perché devono chiedere aiuto e consiglio ai Lions. Bene, soprattutto non sentirsi soli. Grazie ad Alberto Vinci, una volta presidente anche dell'IoS Club Roma Mare. Adesso è presidente di tutto. No, no, no. Il nostro presidente. Futuro presidente, quindi si parla di cose altre. Grazie ad Alberto Vinci, Giuliano Testa e ovviamente al nostro editore Franco. Io volevo dire semplicemente alcuni punti di vista mio personale, sul particolare dell'avvocato quando ha parlato effettivamente che c'è bisogno per curare i drogati negli anni 70 di qualcosa di particolare, che molto spesso sfociava nel discorso di andare in posti dove c'era un discorso spirituale, come ce ne sono tanti per aiutare questi drogati in particolare. Però un altro punto importante che direi per le donne, prima di tutto, la dignità delle donne oggi è ferita non solo dai mariti che le picchiano, ma è ferita da tutto il contesto. Filme porno a libera scelta, tanto se la censura è stata tolta anche nella RAI 1, RAI 2, RAI 3 senza problemi. E cambiare la cultura dei programmi televisivi che sono la base di tutta la cultura che oggi viviamo. Cioè uomini e donne che litigano tutto il giorno. Ma che insegnamento è? Ha citato pure il titolo, quindi. Sto sentendo io. Perfeicastica. Io non voglio dire o criticare con quello, però ci potrebbe essere un insegnamento in cui moglie e marito devono andare d'accordo. E la cosa più bella per andare d'accordo con moglie e marito sono le cose spirituali. Perché questo? Perché lì ci sono veramente significato della donna e dell'uomo. La donna non può essere solo un oggetto, perché strumentalizzato da tutte le varie fonti, tra cui internet e tra cui i vari programmi televisivi. La donna è stata creata a Dio insieme all'uomo e tutte e due devono essere rispettati e amati. Se le pensano a Tanzi, nel 1987, 30 anni fa, Renzo Arbore fu preso di mira dall'associazione femminista, ma anche dalla fede del caseringhe per le ragazze coccodè, che era poi una cosa ironica, proprio sulle donne che venivano bistrattate e rese come delle ochette pur di apparire in televisione. Adesso che è il light motif dei programmi, nessuno ne parla più. Ma Renzo Arbore, che aveva visto molto più a lungo di tutti, venne su indietro tutta bersagliato da varie associazioni. Questo ti fa capire tutto. Questo è il discorso base, cioè in poche parole il rispetto si crea con una cultura popolare di tutto, non di piccole cose, salviamo questo, possiamo fare poco. Ma quando ci si mette di mezzo un governo in cui fa delle istituzioni, soprattutto basilari, in cui ci si mette una moralità in tutte le parti, la gente cambia, specialmente i bambini. Noi siamo cresciuti negli anni 70, io, Vinci, lui, noi sono 45 anni che siamo sposati, 50 anni pure. Ma ci amiamo come la follia, tutte e due. Poi ci sono i casi che litigano, ma però, dicevo sempre alle donne, scusate, quando vedete un uomo o un ragazzo che è violento, che dà calcio a un cane, ma rendetevi conto che lo farà anche con voi. Quindi non lamentate se a voi vi picchia. Come il ragazzo pugliese che ha 17 anni, spasciava l'automobile del vicino di casa. Capito? Quello era già violento. Tu perché il ragazzo lo frequenti? Ma lascia perdere. È meglio che stai sola. Sto tenendo l'idea. Comunque è il codice etico che va cambiato. La sintesi del suo discorso. Grazie, come sempre. Grazie a tutti. Franco Latanzi, Giuliano Testa, Alberto Vinci. Grazie, come sempre, per dare la voce a chi non l'ha. Questo è lo slogan nuovo.